Ciao a tutti ragazzi, sono SaviUltras90 e oggi sono tornato con un nuovo episodio della serie Over Me e oggi sono in compagna di Flocox, se si pronuncia così, Poseidon200 e Ivan Locatelli e poi c'è lo spettatore non pagante che sarebbe Nicoplace99 che è un mio amico che già c'è in subbox quindi se volete iscrivetevi al suo canale, fa video di Call of Duty e quindi niente ragazzi, lui è già in subbox, ripeto, quindi anche se vince non guadagna un cazzo allora, vediamo sì, i big money prende lui allora guardatelo che non muore si inizia con due kill va fa culo quello butta il C4, ma io lo evito perché no dai ma do diabolico mudunna è un mio amico che cazzo che è entrato però dov'è? 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 allora oh ragazzi, però non me li rubate tutti allora oh mio dio oh mio dio non so dove andare non so dove andare oh guardatelo, guardatelo che mi uccide ma guarda no, che camper di merda che camper di merda ovviamente lo freggo con la mia tattica vai e dai inventata al momento il nome vai e dai che cazzo dico? allora non c'è nessuno perché muoiono sempre guarda guarda dove sono tutti quanti? ora sono tutti qui oh non trovo nessuno li trovo tutti insieme ma guarda ma proprio proprio lezzo da dietro citazioni zebbo 89 aiuto 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 oh mio dio tutti i camperoni belli li piazzati sulla casa ma io no oh mio dio oh mio dio no ho il nabo sulla casa come sempre quello vabbè quello è fisso li stiamo distruggendo li stiamo distruggendo saranno tutti qui no oh mio dio oh mio dio ora sono tutti qua sopra oh e li hanno appena uccisi oh ma sempre su questa casa di merda e da dietro mi giro sparo quello e mi prendo da dietro un altro questi oh ma che palle sempre su quelle case lì fermi sulla finestra a vedere se passa qualcuno da lì proprio camper dov'è cosa prende me oh te lo prendi oh ma dove sono muori il camper qui no no fanculo mentre ricarico ma io corro e termino di ricaricare quindi andassi a cagare andiamo uno qui che è andato sulla casa ovviamente ma muore ok uno sarà dentro qui perché dov'è oh il compito il manterrume passa in vantaggio non ci sono ne attacco fulmine oh oh vittoria all'ultimo vittoria all'ultimo ragazzi ultima uccisione oh se non uccidevo quest'ultimo non avrei vinto ragazzi all'ultimo all'ultimo secondo 4 e 60 di rate o bella partita anche se nico place non avrebbe vinto una cippa vabbè non è lo stesso comunque ragazzi aspettate un secondo che mi sa che sono arrivato al livello massimo e quindi volevo fare il prestigio no vaffanculo che fail ragazzi manca pochissimo per il quarto prestigio vabbè ragazzi il video è finito se vi è piaciuto mettete mi piace e niente iscrivetevi al canale bella ragazzi al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.